Noi millennials siamo stati etichettati come la green generation, la generazione verde, ovvero quella generazione che vive con un occhio rivolto verso la sostenibilità. E avere uno stile di vita sostenibile, a sustainable lifestyle, è sicuramente attraente e soprattutto è contagioso. E proprio per questo motivo sempre più persone oggigiorno si avvicinano a questo nuovo stile di vita. E le cose intorno a noi stanno cambiando e di conseguenza questo stile di vita diventa più accessibile a molti e a tutti. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque nel video di oggi voglio andare a raccontarti e ad elencarti alcune buone abitudini che senza dubbio ti aiuteranno ad avvicinarti a uno stile di vita sostenibile nella quotidianità e soprattutto senza fare troppa fatica. Perché la sostenibilità non deve essere difficile, anzi deve essere un piacere, deve essere un'avventura, deve essere un percorso. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di iniziare subito con il punto numero uno. Ovvero, comprare al mercato. Comprare appunto al mercato locale o dal piccolo rivenditore invece che al supermercato avrà sicuramente un impatto positivo sul nostro pianeta. Questo perché? Perché i piccoli produttori o i rivenditori delle nostre zone, producendo meno quantità di frutta e di verdura rispetto ai grandi rivenditori, utilizzano per produrre pratiche di coltivazione e di raccolta più sostenibili per l'ambiente. Si tratta inoltre di prodotti organici che arrivano appunto da agricoltura bio e di conseguenza fanno molto bene a noi e alla nostra salute. Supportare dunque i mercati locali, i piccoli distributori, spingerà anche i grandi distributori a cambiare le loro abitudini di produzione e di vendita. Quindi ecco che ancora una volta con i nostri soldi andiamo a prendere decisioni che andranno a influenzare il nostro sistema, che andranno a influenzare gli andamenti di mercato. E qui mi collego a limitare il consumo di carne. L'ho già citato in passato in diversi video che cambiare le nostre abitudini alimentari non è per niente facile, basta pensare a quando andiamo in viaggio che ci viene scombussolata l'alimentazione quanto è difficile. Eppure cambiare le nostre abitudini piano piano nella quotidianità può fare sicuramente la differenza. Non sono vegana, già lo sai, ma ho senza dubbio diminuito l'assunzione di affettati che adoro, adoro infinitamente. Quindi ti lascio immaginare quanto è stato difficile soprattutto all'inizio iniziare a dire di no di fronte agli affettati che mi venivano offerti o che trovavo al supermercato. Ma insomma, non ho ancora raggiunto la strada della perfezione, ma perlomeno credo di essere sulla strada giusta. Magari possiamo tutti quanti scegliere di diventare vegani part time, ovvero scegliere dei giorni della settimana dove decidiamo di non mangiare né carne né pesce e tutti i derivati. Insomma, piccole azioni nella quotidianità, piccoli gesti ma che fanno tanto per il nostro ambiente. Condividi, sharea, fai sharing. Grazie alla nascita di nuove app ci risulta più facile conoscere servizi di sharing presenti vicino a noi come BlaBla, per esempio, che ci dà la possibilità di condividere, di shareare, diciamo così, il tragitto in macchina con altra gente che deve fare il nostro stesso percorso. E questo ci vede non solo risparmiare, ma anche vedere meno macchine per strada e di conseguenza meno inquinamento, si respira aria più buona. Un altro esempio, un'altra app che mi viene in mente è Vinted, che ci dà la possibilità di acquistare capi di seconda mano, ma anche di vendere i nostri capi dando seconda vita. Quindi condividiamo, shareiamo, sia questo un semplice percorso, un semplice tragitto in macchina o i nostri capi o gli attrezzi per sistemare casa. Quindi condividi, sharea, fai sharing. È un ottimo modo per andare a risparmiare di tasca nostra, ma anche per aiutare il nostro ambiente. Fondamentalissimo. Scegliere brand con una missione. Siamo noi con le nostre azioni, con i nostri acquisti, che determiniamo gli andamenti del mercato. Comprare dunque prodotti, abbigliamento, accessori da quei brand che hanno una missione aiuterà, spingerà anche tutti gli altri brand a prendere decisioni diverse, a unirsi in questa sfida, in questo cambiamento e a iniziare a produrre, realizzare capi, accessori, prodotti in maniera più sostenibile, avendo un occhio di riguardo nei confronti del nostro ambiente. Prendiamo per esempio Swappi. Swappi che ho già citato milioni di volte. È un brand che io adoro, che realizza telefoni ricondizionati, favolosi a prezzi stracciati. Tra l'altro con loro ho ancora un codice sconto attivo che ti lascio nella descrizione qui sotto e che ti dà la possibilità di avere 10 euro di sconto al carrello. Ma tornando a noi, dicevo appunto che Swappi realizza telefoni ricondizionati e quando noi pensiamo al ricondizionato, subito colleghiamo alla scarsa qualità, a truffe e disavventure, ma con Swappi non è assolutamente così. Infatti i loro iPhone ricondizionati, posso assicurartelo, funzionano come nuovi e questo perché sono stati sottoposti a una verifica tecnica di 52 fasi e per questo motivo Swappi è fiducioso nel poter offrire 12 mesi di garanzia completa su tutti i cellulari. E in caso noti difetti durante il periodo di garanzia, Swappi ti cambia il cellulare e se non sei soddisfatto durante i primi 14 giorni che hai acquistato il telefono, lo puoi semplicemente restituire. Ma oltre a tutte queste garanzie che Swappi offre e la possibilità inoltre di pagare in 3 rate senza bisogno di mostrare busta paga e senza interessi, Swappi ha a cuore l'aspetto ambientale ed è per questo che io mi sono unita a loro nella loro missione, perché ci credo talmente tanto che non potevo lasciare un brand così grande, così importante che sta facendo così tanto fuori dal mio mondo. Infatti Swappi per creare i suoi telefoni va a utilizzare minerali rari già presenti nel mercato senza andare ad estrarre nulla di nuovo dal nostro pianeta, in modo particolare senza estrarre nulla di nuovo da quelle miniere che sono presenti in quei paesi che hanno già altri problemi, come nel caso del Congo per esempio. In questo caso non solo si ha un rispetto nei confronti di quei paesi che stanno già affrontando altre difficoltà socio-economiche, socio-politiche, ma si ha anche un rispetto nei confronti del lavoro dei minatori, che come si sa non è sicuramente lavoro facile e comodo. E se consideriamo quanto spesso cambiamo il nostro telefono e di conseguenza a quanti minerali rari vengono utilizzati, ci porta senza dubbio a fare acquisti più sostenibili, a rivolgerci a brand con una missione, come appunto nel caso di Swappi. Già lo sai che se scopro qualche brand nuovo, sostenibile, che mi piace, che ha dei prodotti validi, io te lo faccio conoscere. Perché purtroppo non è sempre facile trovare brand sostenibili, quindi è per questo che credo nella diffusione delle informazioni, ed è per questo che ci tengo a nominare quei brand, come appunto nel caso di Swappi, che hanno una missione in cui io stessa credo, un brand che io stessa utilizzo. A proposito, in tutto ciò, dove è il mio telefono? Eccolo qui, insomma, un signor telefono, che io odoro, ho sempre con me, utilizzo tantissimo per fare alcuni di questi video, per le mie storie Instagram, i Reels, insomma. E qui dentro viene contenuto di tutto, quindi davvero un signor telefono. Altri nomi di brand che mi vengono in mente, così su due piedi, sono Vivaya, che realizza scarpe, ballerine principalmente, realizzate con bottiglie di plastica, riciclate, e Anna Luisa, che realizza gioielli con materiali riciclati. Quindi ecco, io mi affido, voglio affidarmi da oggi in poi, a tutti quei brand che hanno una missione, una missione valida, una missione con un occhio di riguardo verso l'ambiente e la sostenibilità. E poi, quando li conosco, te li faccio conoscere, perché ancora una volta, queste informazioni sono importantissime da condividere. E ti ricordo nuovamente, che ho un codice sconto attivo con Swappi, che trovi nella descrizione qui sotto. Ripara. Ci è sempre stato insegnato che buttare via e comprare qualcosa di nuovo è la soluzione migliore, è la soluzione più economica, è la soluzione più veloce, ma non è sempre così. E riparare, secondo me, è il vero significato di sostenibilità. Riparare ci aiuta, ci rivolge a uno stile di vita sostenibile, così come fare del fai-da-te. Insomma, tutte quelle attività che ci vedono riprendere in mano quello che già abbiamo, quello che già abbiamo dentro casa, che ci circonda, per dare seconda vita, per ricrearci un nuovo stile, un qualcosa che con il tempo ci vedrà risparmiare, non solo un bel po' di soldi, ma che ci vedrà anche diminuire tutto questo consumismo sfrenato che ci ha coinvolto tantissimo in questi ultimi anni, che ci ha visto riempire la casa di tutto e di più, troppo, semplicemente troppo. Pensiamo anche al problema che abbiamo con i rifiuti. Più riparazione c'è da parte nostra, più fai-da-te ci sarà da parte nostra, meno rifiuti verranno creati. Smart working. Non potevo non citare lo smart working e questa epidemia ce lo ha confermato, che lavorare da casa aiuta il nostro pianeta, aiuta il nostro pianeta perché utilizziamo meno i mezzi di trasporti, ci sono meno auto per le strade, e di conseguenza meno smog e di conseguenza più aria buona per i nostri polmoni e la salute ringrazia. Il mondo si è risvegliato di fronte ai nostri occhi e questo è stato un vero e proprio piacere, un entusiasmo, una gioia, un wow da parte di tutti noi. Eppure ce lo ricordiamo, lo stress da traffico. Io per esempio avevo lo stress da metropolitana, ci si schiacciava l'uno con l'altro, eravamo a sardine, un incubo praticamente. Adesso invece si è più rilassati, si lavora da casa, si consuma di meno, si mangia a casa, si risparmia, c'è meno smog, meno inquinamento. Quindi ecco che per tutte quelle aziende che ancora, diciamo, non sono rivolte allo smart working, ecco che i lavoratori magari potrebbero far presente che lo smart working aiuta l'ambiente. Un datore di lavoro non può dir di no a questo. Giusto? Bene, queste dunque sono le mie buone abitudini per vivere una vita sostenibile e spero davvero che queste buone abitudini possano aiutare anche te a rivolgerti verso la strada della sostenibilità senza troppa fatica. Come sempre sono particolarmente curiosa di sapere quale tra tutte queste metti già in pratica e quale invece inizierai a mettere in pratica da oggi? Qui sotto nei commenti. E ovviamente se hai qualcos'altro da aggiungere e sono curiosa, commenta qui sotto. Ovviamente ti ricordo che hai il codice sconto ancora attivo di Swap nella descrizione e se ti è piaciuto il video fammelo sapere con un like e non dimenticarti di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video e nel frattempo buon weekend a tutti! Un bacio! Ciao!